amici k moto buongiorno oggi vi presentiamo una delle nostre borse a serbatoio precisamente della gamma tank lock il modello è r a 311 si contraddistingue appunto per il sistema di fissaggio tank lock che va abbinato a flange da serbatoio specifiche che si fissano sul tappo del serbatoio della vostra moto appunto ogni moto ha una flangia specifica questa è una borsa da 16 litri espandibile c'è un piccolo scomparto per aumentarne un pochino la capienza vedete qua realizzata in materiali poliestere 840 e 1200 d con inserti in ecopelle laminati e ci sono anche degli inserti in materiale riflettente per aumentare la visibilità anche in condizioni di di maltempo o di scarsa visibilità durante le ore notturne insomma visibilità sinonimo di sicurezza altra caratteristica di questa borsa è questa finestra trasparente dove potete riporre un tablet piuttosto che la cartina o oggetti di primo utilizzo una pratica tasca porta smartphone nel quale potete alloggiare cito come esempio l'iphone 5 come dimensioni molto pratica sulla quale trovate anche una pratica cable port significa che potete riporre il vostro smartphone e collegare la presa dell'alimentazione in modo da avere la possibilità di restare sempre connessi due pratiche tasche sui lati per gli oggetti di prima necessità all'interno della confezione oltre alla borsa troviamo uno spallaccio quando arrivate con il pratico sgancio tank lock un dito togliete la borsa agganciate gli spallacci con dei semplici morsetti moschettoni come questi qui all'estremità 1 e 2 e la borsa diventa molto comoda anche da trasportare e una cuffia impermeabile anche questa realizzata in materiale riflettente nel caso in cui incontrate un temporale e volete riparare il contenuto della vostra borsa un'ultima caratteristica è questa cinghia di sicurezza che vi consente di ancorare la vostra borsa al cannotto di sterzo della moto una garanzia in più nel caso in cui malaguratamente fissate in maniera non perfetta la borsa alla flancia per oggi è tutto vi aspetto per presentare altri prodotti visitate www.cappamotto.com ciao 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 ciao